Ciao a tutti ragazzi qui per la normal comics e benvenuti in questo nuovo video Oggi ragazzi ho nuove importantissime novità sulle panini Più in generale non proprio sulle adrenalini XL ma sul accordo che hanno stretto la panini e la liga seriale, la liga calcio italiana Sono delle novità abbastanza importanti, io queste novità le ho lette anche per caso sul sito della liga ieri sera E mi è venuta appunto in mente di fare un video Per chi si chiedesse se ci sono novità magari su questo link che vi ho fatto vedere un po' di settimane fa Se si apre si va sempre sul sito della panini ma vedete non c'è nessuna schermata inerente alle nuove adrenalini XL Quindi dovremo aspettare un altro po' di tempo Mi scusi subito se non avrò il tempo di editare questo video ma lo voglio caricare subito Anche perché essendo ancora estate non abbiamo molto tempo per dedicarci ai video Poi da settembre ci dedicheremo molto di più Comunque ragazzi se volete anche voi scaricare questa circolare, questo documento Bastaria circolare panini 2018-2019 circolare che risale a tre giorni fa Apriamola e leggiamo insieme le novità Ragazzi ho letto alcune cose davvero davvero incredibili Allora circolare numero 17 del 14 agosto 2018 Milano 14 agosto vabbè alle società della Lega Nazionale Professionisti Serie A a loro sedi Questo è un accordo che hanno stretto la Lega Serie A e Panini per la stagione 2018-2019 Ma come potete leggere vi ricordiamo qui di seguito i servizi da garantire a Panini A seguito il contratto di licenza valido per le prossime sei stagioni Quindi diciamo tutte le condizioni scritte che seguiranno in questo contratto Varranno per le prossime sei stagioni fino alla stagione del 2024 Anzi le prime novità sembrano cose normalissime come le vecchie stagioni Ho letto qualcosa di incredibile Allora materiale fotografico a titolo gratuito per la realizzazione dei prodotti licenziati Sulla base di un piano delle opere fornite da Panini Ovvero le squadre di calcio devono offrire le proprie fotografie a titolo gratuito Panini non deve pagare per le fotografie E queste fotografie ovviamente la Panini le usa per realizzare i propri prodotti da vendere Poi secondo punto Per ogni collezione messa sul mercato almeno una giornata di campionato Con iniziative specifiche a supporto del lancio Ad esempio utilizzo delle riproduzioni digitali delle figurine o trading card Panini Sui maxi schermi degli stati per la presentazione delle squadre Ok ora mi sembra di aver capito un qualcosa di diverso Comunque la grafica delle figurine Panini o delle trading card che sarebbero l'adrenalin Utilizzate sui maxi schermi anche per la presentazione delle squadre Cioè teoricamente useranno per far vedere le formazioni sui maxi schermi le figurine Cioè le carte e l'adrenalin Se, vabbè Napoli non ha il tabellone quindi Noi napoletani non lo vedremo neanche Ma tipo il tabellone che ne so San Siro ce l'avrà Penso di sì A San Siro durante una partita dovrebbe comprare la formazione con le figurine della Panini Penso di capire Se ho capito io male invece vuol dire che semplicemente durante le partite Negli stadi manderanno la pubblicità nei tabelloni Poi distribuzione a cura e a carico del club di campionatura e o materiale promozionale Messe a disposizione dalla Panini per il lancio di ogni collezione Quindi distribuiscono materiale promozionale per pubblicarlo E questo ovviamente a cura dei club Messe a disposizione di Panini della rosa della squadra per almeno 4 ore da meso a luglio a fine agosto Di ogni stagione sportiva per realizzare materiali fotografici e video Tempi e modi da concordare tra le parti Cosa ci sta dicendo questo sito, questo documento mentre volano gli aerei in cielo Non so se vi state sentendo Che Diciamo per 4 ore c'è un accordo che la squadra Mettiamo la Juventus deve lasciare Max Allegri, la società, diciamo Max Allegri deve lasciare ai fotografi, ai registri della Panini 4 ore di tempo Per registrare e fotografare tutto il materiale da utilizzare Poi Messe a disposizione di uno spazio all'interno della homepage Del sito internet delle squadre per la promozione delle collezioni Quindi all'interno delle 20 squadre di serie A Dovrebbe esserci un'altra promozione Per Diciamo Un'altra pubblicità per promuovere le collezioni Poi Ragazzi queste sono novità quasi di nulla Dopo vedrete le belle novità Utilizzo nell'ambito delle attività editoriali offline e online dei club Dei materiali dedicati alla squadra che Panini mette a disposizione Per sezioni, rubriche e post dedicati Ad esempio A titolo esemplificativo E non esaustivo Figuriniere dei giocatori della propria rosa Storia del club tramite le figurine Panini Diciamo che le figurine Panini Saranno usate anche molto come grafica Ufficiale potremmo dire Della serie A E questo mi fa molto piacere Implementazione di attività di comunicazione Promozioni in occasione del lancio di ogni collezione Panini Con almeno una news Un post sul proprio sito internet Un dem ai propri iscritti Tre post dedicati su ciascuno dei propri canali Utilizzano anche i materiali esclusivi Di cui al punto precedente Vabbè ovviamente bisogna La Panini deve fare molti post sul proprio profilo Mandare delle news per l'uscita di queste collezioni E ragazzi qui ci sono dei pezzi forti Mantenetevi forte Che qui c'è la roba proprio potente Indicazione È messa a disposizione di un calciatore rappresentativo Per supportare i Panini Nel lancio di ogni collezione tramite Presenza con modalità concorrate tra le parti Ad eventi Panini E o LNPA A supporto del lancio Possibilità di utilizzo da parte di Panini Sempre in maniera collettiva Nelle attività di comunicazione Promozione A supporto della collezione Nel rispetto dei calendari sportivi La presenza dei calciatori rappresentativi Sarà garantita da almeno un evento Panini Ogni stagione per club Ragazzi Quello che ci stanno dicendo È che durante appunto gli eventi E penso anche tipo le conferenze stampe Con il lancio Ci sarà presente un calciatore a stagione Penso di una delle 20 squadre Mi auguro qualcuno Comunque non voglio trovarmi Ronaldo Però Qualcuno di abbastanza importante Questo è quello che veramente mi ha fatto Uscire pazzo Supporto ad iniziative tipo Panini Tour Ragazzi Sapete benissimo cosa è il Panini Tour Ci siamo stati L'anno scorso Abbiamo incontrato anche qualcuno di voi Qualora fossero previste Nelle città Nelle città sedi dei club Con Presenza all'evento di calciatori dei club Con modalità concordate tra le parti Quindi ragazzi Nei prossimi Panini Tour Quasi sicuramente Troveremo un calciatore Lì Che firmerà autografi Lì firmerà la propria figurina Ragazzi non si era mai visto un calciatore Che si degnava di venire a un Panini Tour Cioè un qualcosa di incredibile Questo porterà un'affluenza incredibile Ma mettete voi che al Panini Tour Viene Ma neanche Mertens Ma anche un Un Meret Anche un Mario Rui Ragazzi porterebbe un'audience incredibile Questo vale anche per tutti gli altri Panini Tour in altre città A Roma va Pastore Va Cristante Ma vi immaginate quanto può aumentare Questa Questa affluenza E quanto può aumentare anche La potenzialità che queste collezioni hanno Perché ovviamente Portare così tanta audience Porta anche più incassi E miglioramento della collezione Quindi ragazzi Secondo me Con questa nuova lega Questa lega che diciamo Sia un po' rinnovata Per me Si potranno essere D'unità belle Nonostante Per la visione Dei contenuti sportivi Con Sky e Dazone C'è stato un casino Non si possono spendere 50 euro al mese Per vedere le partite Della propria scuola del cuore Per gli adrenalini Mi sembra un lavoro Fatto davvero bene Andiamo all'ultimo punto Fornitura a Panini Di due biglietti Abbonamenti in tribuna centrale Per ogni gara Delle competizioni ufficiali Della Lega Serie A Per attività di promozione A supporto del lancio Delle collezioni A titoli esemplificativi E non esaustivo Possibilità di mettere A disposizione come premio In un concorso Il posto in tribuna Per una partita Della propria scuola del cuore Ragazzi Ora mettete che fanno Un concorso Qualsiasi concorso Che ne so L'anno scorso Ci furono diversi concorsi Per i punti Che si accumulavano Per il posto influencer Noi arriviamo secondi Nel posto influencer E vincendo Una di queste Classifiche Così mi viene in mente Uno di questi concorsi Potremmo anche vincere La tribuna Del Napoli Che ne so Vince Un ragazzo Che ti fa Fiorentina Della Fiorentina È un qualcosa di incredibile Ragazzi Veramente Anche L'avere un calciatore Ma di qualsiasi squadra Al Panini Tour Porterà Secondo me Molto molto interesse Da tutti Oltre che Mi sembra di capire Che La Lega Serie A Voglia che sia Pubblicizzata Molto molto di più Questa collezione E ormai ragazzi Oggi è il 17 Quando sto registrando Questo video E quando lo vedrete Manca davvero pochissima L'uscita Ci è stato detto Fino di Agosto Tra poco Si potrà considerare Fino di Agosto Abbiamo appena superato La metà Quindi Si ricorda Dalle società Che non avessero ancora Proveduto In tal senso Di comunicare Il nominativo Di un proprio responsabile Che funga Da referente Della Lega Serie A Dunque Vabbè Chi ancora Non ha fatto l'accordo Deve dare Un email Un telefono Di un Di uno Di un referente Responsabile Per accordarsi Ragazzi Questa era la novità Per me È roba incredibile A parte il fatto Che si percepisce Che A parte Non avevo mai visto Un Un comunicato Un comunicato Così importante Di un accordo Perché questo è un accordo Nuovo Parte proprio Da questa stagione Le novità più belle Sicuramente Vabbè Il fatto che Negli stadi Saranno sponsorizzate Molto Non so se ho capito bene Ma per la presentazione Delle squadre Vedere La grafica Delle carte Cioè Ma sarà una roba Pazzesca Vi ripeto Purtroppo al San Paolo Non c'è il maxi schermo L'avere Anche Al lancio Quindi qualche conferenza stampa Un calciatore Portare ancora più affluenza Anche se mi sembra Che ci fossero anche gli anni scorsi Ma al panini tour Agli eventi Avere un calciatore lì Per me è una roba incredibile E poi Il poter vincere dei biglietti Per la propria scuola del cuore Con un concorso Ragazzi È davvero incredibile Ragazzi Qui finisce il video Ho parlato anche tantissimo Non lo so Non so quanto sia durato questo video Penso sia durato tanto Io spero che vi sia piaciuto Ragazzi Io mi raccomando Vi consiglio di restare sempre Attivi su questo sito della Lega Perché come avete visto Le novità Su panini sono tanto Ovviamente Panini Non vive Se non esiste la Lega Serie A Quindi tutte le novità di Adrenaline Da maggior parte Le novità di Adrenaline E quelle panini in generale Le trovate Appunto Come potete vedere Le trovate su questo sito Vi consiglio davvero Di farci un salto Ogni tanto Perché Trovate Tanta bella roba Magari Se aveste visto Questo comunicato Prima di me Mi aveste potuto dire Guarda Fai un video Ragazzi Finisce qua il video Io spero vi sia piaciuto Se queste novità vi piacciono Asciutete un bel commento Iscrivetevi al canale E noi ci vediamo Nel prossimo video Bella